Partono ad Arezzo i mercatini, che è un evento dell'anno, sono notizie sulle molestie a una bimba, c'è stato il terremoto stanotte e Carlo Brandini Dini di cosa vuol parlare? Della fontana di piazza San Michele, questa piazza storica bellissima, dopo piazza San Marco di Deleuze, che non eroga più acqua. Scusate, perché bisogna fare una prova, è un anno che è rotta questa fontana, allora voi volevate bere da un anno, però la fontana è rotta. E' rotta, quindi fate un reclamo al comune, salvateci una figura di merda, sono nato per il rispetto per un'anziana. Ragazzi è ancora in manicomio. Io sarò anche in cura in manicomio, chiami la televisione perché non funziona. Ha funzionato ieri sera e quindi funziona, allora di questo intervento ringraziamo l'ufficio manutenzione perché fino a ieri non ha funzionato. Però la stessa piazza ha delle anomalie, guardate la chiesa qua tutta, che è stata rimessa a posto ieri, è stato cavato dei... Ha un culato, ha messo a posto anche la chiesa. Tutto io, perché te, siccome te vai in comune appena esci di qui e gli dici guardate che giovedì, venerdì, guardate che venerdì, ho questa ammissione, siccome te sei un potente, sei un potente. E quindi è tutto... Io sono un potente, te sei impotente. Senti, hai visto la polemica Bianconi? Basta, ascolta. No, 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 no. Non cambiate... Anche ieri ha cambiato anche il lente. Saluta con la manina, su, da allora. Ciao, arrivederci.